Mahmood e Blanco saranno ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2023. Maestri di cerimoni come Giaffù per Diodato e Imaneskin, Mahmood e Blanco ci lanceranno con i brividi certamente nella 73esima edizione di Sanremo, che riserva ancora molte sorprese come il terzo nome femminile accanto a quello di Chiara Ferragni, prevista nella prima e nell'ultima puntata e Francesca Fagnani, che sarà protagonista di una serata. Dunque restano ancora due date senza nome e nonostante le ipotesi fatte da Monica Bellucci ad Andrea De Logu, da Benedetta Porcaroli a Sabrina in facciatore, Ama resta Sibillino. L'indizio è una ragazza molto brava, è una ragazza che non sta ferma un attimo e di più io non posso dire. Un punto fermo c'è e anche in questo caso si tratta di energia allo stato puro. Morandi, co-conduttore, darà ennesima prova del suo talento e del suo grande cuore su quel palco che ha calcato tantissime volte da partecipante, vincitore e padrone di casa. Bello ritrovarsi a Sanremo, bellissimo. L'anno scorso ero in gara, quest'anno mi appoggio di più a me, ma te te la godi di più quest'anno, sei più rilassato. A Salmo sono affidati i collegamenti della nave crociera, mentre i cantanti in gara, fulcro del quarto festival targato Ama, sono nella fase più creativa e complessa del lavoro, a sole, sei settimane dal debutto. Stai cercando una strada più corta per arrivare a Sanremo? No, guarda, è il messaggio di un bambino, Nicola. C'ha otto anni, guarda cosa dice. Ma da me non passate. Vediamo un po' Nicola da Udine, Udine è lontano. Ma ci dobbiamo andare, per lui, per Nicola. Dai, non fare il pigro, dai, andiamo.